Nei fondali a largo di Ravenna, a circa 11 miglia dalla costa, si trova il relitto della piattaforma di perforazione Paguro. Questa struttura, affondata nel 1965 per un incidente, giace su un fondale di 30 metri ed occupa una superficie di circa 200 metri quadrati. L'elevata atrofia dell'acqua, dovuta ai consistenti apporti del Po, è l'elemento chiave che fa di questo sito un ambiente ad elevata produttività e diversità biologica. Un sito dove molte specie animali trovano idonee condizioni per poter crescere e riprodursi. Da oltre 50 anni, sulle strutture sommerse, si è sviluppata una comunità biologica straordinaria per quantità di organismi. L'elevata biodiversità del relitto costituisce motivo di grande interesse e un'importante metà per i subacquei. Possiamo definire questo relitto affascinante e generoso. Una realtà che dispensa piacere ai subacquei che lo visitano e ai ricercatori che lo studiano. Una sorta di laboratorio vivente che rispecchia gli effetti indotti dal fiume Po. Un fiume che arricchisce la vita dell'Adriano. Grazie. 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 Grazie.